Sabato 9 e domenica 10 novembre, questi due giorni nel corso di quali si svolgeranno gli eventi legati alla sesta edizione della Guerra del Sale, manifestazione destinata a svilupparsi nel centro storico di Torgiano, una coinvolgente rivocazione rinascimentale caratterizzata dalla presenza di musici, sbandieratori, giocolieri, saltimbanchi e non solo. La Guerra del Sale 2024 partirà ufficialmente nel primo pomeriggio di sabato con l'apertura del mercato dei mestieri della Contado in Via del Pozzo e in Via dei Cocciari, mentre all'ingresso della Porta della Torre verranno accolti i visitatori per mostrare loro le numerose bancarelle posizionate all'interno del borgo. Contestualmente verranno aperte due mostre, una nella Chiesetta della Morte dove verrà esposto la plastico realizzato da Massimiliano Martellacci per riprodurre in scala la battaglia di Torgiano, e un'altra allestita invece nella Chiesetta di Santa Maria dove saranno esposte le fotografie di quattro tappeti floreali eseguiti a giugno dai rioni in gara per il palio della Guerra del Sale. Avremo la caccia al tesoro per i ragazzi delle scuole medie, ci saranno tantissimi mestieri in più rispetto agli scorsiani, tant'è che abbiamo aperto il terreno anche a un'altra strada perché non riuscivamo a inserire tutti quanti i banchi nel solito spazio della rievocazione, quindi è una manifestazione più ampia che prevede anche il solito bellissimo spettacolo finale delle due giorni. Piuttosto interessante anche la programmazione per la giornata di domenica scandita dalla palio della Sale dei Bambini in Piazza Baglioni e dalla conferenza su Galeazzo Alessi nella Chiesa della Morte. In serata infine lo curioso spettacolo allucinazioni a cura del gruppo storico Spadaccini di Assisi.